Questo video riguarda i migliori tre scarpiere. Il vincitore della qualità nel nostro scarpiere va alla BitDesign Scarpiera. Le misure dei mobili basic sono 55 cm x 108 cm x 36 cm. È un mobile ausiliario molto completo e pratico. La scarpiera basic è un fantastico complemento d'arredo adattabile a qualsiasi stanza della tua casa. Composto da 6 ripiani con possibilità di estrazione per fughe maggiori. Perfetto come guardaroba ausiliario in stanze, camere da letto, corridoi. È costituito da trucciolare ad alta densità con una melamina di qualità e una lunga durata. Prodotto certificato dal PEFC, il mobile è in glossy white, altamente abbinabile a tutti i tipi di mobili. Questo tipo di materiale ha una superficie non porosa e molto resistente. Pertanto, è un mobile facile e veloce da pulire con un panno umido. Montaggio richiesto. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Relax Days Scarpiera. Chi possiede tante scarpe ha sicuramente altrettanti problemi per sistemarle. Spesso in un piccolo corridoio non c'è spazio sufficiente per una scarpiera armadio grande o un mobiletto porta scarpe. Questa scarpiera con 12 scomparti è la soluzione ideale. Può essere montata in diverse possibili combinazioni e si adatta alla perfezione a tutti gli ambienti della vostra casa. In questo scaffale componibile c'è posto per almeno 24 paia di scarpe. 12 scomparti per almeno 24 paia di scarpe. Disponibile in vari colori per adattarsi a ogni arredamento. Semplice montaggio con sistema a incastro senza viti e senza fori. Il vincitore della performance premio nel scarpiere è il Song Mix Scarpiera. Vuoi dare più protezione alle tue scarpe delicate? Non ti preoccupare. S-O-O-N-G-M-I-C-S ti aiuta. Sì, la copertura in tessuto della scarpiera dotata di cerniera e chiusure a strappo è scelta a mano per riporre le tue scarpe correttamente. I tubi di metallo più spessi di 12 mm di diametro e il tessuto non tessuto da 75 grammi su metri quadrati sono selezionati con cura per garantire la robustezza e la durata della scarpiera. Diciamo, ovunque tu voglia. Sia nel tuo soggiorno, camera da letto o guardaroba, questo organizzatore di scarpe funzionerà sempre alla grande per tenerti organizzato. Non più ore passate a montare una scarpiera, il montaggio qui riguarda il fissaggio dei tubi nei connettori di plastica. La cosa successiva che farai è mettere 4 a 5 paia delle tue scarpe su ogni livello. Una robusta scarpiera a 10 ripiani con copertura, montaggio facile e design personalizzabile e una soluzione per risolvere lo scompiglio delle scarpe sparse nell'ingresso e nella cabina armadio. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.